E questo è ciò che succede ad utilizzare gli Star Seraph con Nova in tag Non ho ancora ben capito perché, ma DevPro ha invertito i partner dei tag Cioè quello che con Avon sono io, ma ho un nome diverso perché non lo so Dettagli E niente, a voi la partita Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima